Allora, complimenti a tutti perché vediamo che state migliorando, questo ci rende assolutamente contenti e felici, vediamo che attraverso il nostro programma state facendo tutti i passi avanti, alcuni ovviamente ci mettono più tempo, altri un po' di meno, vi ricordiamo che tutte le cose che facciamo a lezione dovete continuare a portarle avanti durante il corso della settimana, se no ovviamente i miglioramenti saranno non particolarmente notevoli. Allora, vi ringrazio perché siete tutti molto comprensivi, vi rendete conto che anche noi facciamo molta fatica a gestire una cosa che abbiamo sempre sognato sicuramente, ma per la quale serve tanta organizzazione, tanta programmazione. Vi vogliamo dire che da parte nostra stiamo lavorando ogni giorno per migliorare sempre i nostri servizi e per migliorare la qualità delle lezioni che vi offriamo e dei servizi che vi offriamo. In questa settimana da lunedì a venerdì saremo chiusi, lavoreremo per strutturare al meglio le lezioni e per trovare una quadra ancora migliore. Come vedete siamo in tantissimi, obiettivamente in Italia una cosa del genere non è mai stata fatta, è la prima volta, quindi anche noi non abbiamo dei riferimenti da prendere, ma tutte le cose le dobbiamo ragionare, le dobbiamo fare. A volte sbagliamo, a volte le facciamo giuste e dobbiamo metterci lì a organizzare tutto. Non è assolutamente semplice, stiamo aumentando i membri dello staff per darvi la possibilità all'interno di ogni lezione di avere almeno due persone che vi possano seguire. abbiamo un altissimo numero di spese, perché per fare tutto questo serve un dispendio economico e di energie notevole. Quindi vi voglio solo dire di pazientare, noi stiamo cercando di fare il meglio, se avete delle idee, delle cose da proporci, noi siamo assolutamente ben disposti ad ascoltare tutto e a cercare di migliorare sempre. Adesso, in questa settimana, cercheremo di organizzare una parte di ingresso e di uscita per far sì che anche nella zona parcheggi vi troviate meglio. Cercheremo di migliorare anche la zona bar in mezzo da darvi la possibilità di fermarvi con maggiore rilassatezza e divideremo tutti i campi in modo che ogni classe avrà il campo dedicato con i propri istruttori. Dateci un attimo di tempo, noi stiamo dando veramente il massimo, credetemi. Grazie a tutti, grazie. e continuate così che state andando bene.